Cazzo è andato a parte numero 9 dell'explay di Ori and Will and Wisps La parte scorsa ci avevamo ricongiuti con Q, abbiamo affrontato un percorso insieme Ma poi siamo stati separati da una creatura gigantesca e terrificante che ci ha attaccati Attenzione Non posso usare i miei comandi, non posso usare lo scatto, non posso aprire il menu di abilità, non posso neanche usare le mie abilità E' una sequenza cinematografica questa, non è puro gameplay questo Perché non posso usare nessuno dei miei comandi oltre al movimento del doppio salto Oddio Ma non credo sia morta, dai Cioè non ce la fanno provare due secondi per poi toglierci così o no Ma Katzo Oh, ok Allora il gioco mi ha preso in giro Cioè non è che non mi aspettasse che Ori potesse prendere una piega così tragica Non mi aspettavo a questo punto della storia dopo la sezione di gameplay che abbiamo fatto nella parte precedente Non posso mettere nessun input Osea Grazie a tutti Sono i fuochi fatui? Ah, hanno fatto sbocciare i fiori, mi sa Non posso andare all'indietro, posso muovermi soltanto a destra e non posso neanche saltare addirittura, manco questo adesso Sono davvero spiacente per la tua amica, la voce della foresta ha fatto il possibile per lei ma la sua luce è debole Tante persone hanno sofferto in quei tempi oscuri, i più piccoli più degli altri Quando giunse la fine del salice la luce si spezzò Gli spiriti per iro e la nostra terra cadde il declino I frammenti di luce andarono persi, si sparpagliarono e si indebolirono, diventando dei fuochi fatui Che sono appunto i wisps del titolo, la volontà dei fuochi fatui Abbandonati al loro destino, la loro luce sparirà per sempre, è solo questione di tempo Ma con l'aiuto di Moki ho individuato i punti in cui sono caduti La memoria della foresta avvolta dal giro del nord I suoi occhi persi nell'oscurità del sud La sua forza affondata nelle acque a ovest Il suo cuore, sepolto sotto le sabbie mobili a est E la sua voce, che ti accompagna nel tuo viaggio Da soli sono deboli Ma insieme... Se qualcosa può rimediare i danni inflitti È il volere dei fuochi fatui The Will of the Wisps Non posso più rimanere qui nascosto Anch'io mi unirò alla ricerca Addio piccoletto I Moki di Dio ti aiuteremo fin dove possiamo Prendi questa Ori, ti sarà utile Noi stiamo qui a vegliare sulla tua amica Facciamo planare, è comunque il primo Piume di Kuro Ok Ale Ok Quindi noi dobbiamo trovare i fuochi fotti Ma giocano un Cicci In che ordine dobbiamo trovare un Cicci? Qual è il primo che dovemmo andare a cercare? La mappa è così... Complicata Non sapevo da dove iniziare Qui c'è un sacco ad esplorare per esempio Fra una parte e l'altra mi metterò a esplorare zone vecchie Però non lo faccio adesso durante Let's Play Credo che qua sia un buon punto in cui possiamo andare Da qui possiamo andare a sinistra Allora, i laghi di Luma La vetta di Baur No Le sabbie mobili a est Che sono queste E poi a sud Il coso Qui è dove si trova il fuoco fatto da fare Che probabilmente si raggiunge scendendo da qua Quindi questa è già una via Poi a est qua Bisognerebbe tipo passare per di qui Qui dovremmo ritornare qua nel Bosco Silente Oppure Si va A nord Non so per dove si dovrebbe passare Però a ovest si potrebbe passare per di qua E io passerei per di qua Perché già che ci siamo Possiamo Anche esplorare un po' di aree Che prima non potevamo esplorare Allora Curiamoci Per esempio Già qua a sinistra dovrebbe esserci Madonna No Aspetta Mi devo rimettere Uno E due Credo Tre Ah ma abbiamo comunque Ma no Cioè abbiamo comunque il battito Figo Figata Qui sotto non si può scendere da sopra Ma probabilmente bisogna Entrarci Notando da sotto Ah che paura Non l'avevo visto Qui qua sotto prima Non ci potevamo andare Che rompete il cazzo Ale Potremmo anche comprare l'assalto triplo volendo Ok Saltaci Oh Così Ok E siamo qua Ora Dornando dal sinistra Il laghi di luma infatti Ce lo dice Qui Ah lì c'è un oggetto che ho sicuramente già trovato Ora Prima non potevamo scendere nell'acqua Quando siamo arrivati qui per la prima volta Ora si E però qui c'è un qualcosa che ci impedisce di proseguire Quindi Ignoriamolo E quando siamo arrivati qui per la prima volta Non avevamo ancora il colpo Quindi non potevamo fare questo Ok ok ho capito Ok ok ho capito Non è focci Aspetta Io però adesso ho questo Però E però non mi spinge abbastanza in alto Quindi C mi è sbloccato Giocoliere Oh invece si Questa è una piattaforma Ok meno male Però l'ho fatto così a pelo Che non sono sicuro a certo per certo che bisogna farlo Secondo me si in realtà Cioè nel senso si può Ok Ok queste bolle Ci danno ossigeno Interessante Questa di cazzo 10 Vale Che bella Musa Quando si è sott'acqua Io sono inquietante Ste piantine Però Ossigeno Ah Ah cazzo Ok quindi le puoi aver aperte solo una per volta Figo Si può passare senza dover Però forza combattere Lo sto tizio Ok si si può Allora noi dobbiamo portarci una bolla di ossigeno Ah no Duono temporaneamente Ok 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 Così si faceva Wow Aiuto Posso salire No Allora devo sbrigarmi a trovare Ossigeno Uff Allora Ok ho capito Così Eh per sicurezza riprendiamo ossigeno Che non voglio ricarmi tutta la strada Allora Aia Dai spara Veloce Nooo Ok Così Un'altra Faccio ancora in tempo Oh Un 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 murino Un altro murino Vediamo che è carina che è Comunque mi sa che io sto continuando a spammare A Aia Per notare velocemente ma Il gioco mi dice Bastante nel premuto Ehm Ok qua non sembra esserci nulla Allora vediamo un po' Il problema è tornare un attimo sopra Vediamo se c'è qualcosa di utile Ok Eh Lassù si potrà andare Secondo me no Invece Ok Che bel paesaggio Così stiamo andando avanti Anche se però Vabbè Quando la luce del salice si è frantumata La forza della foresta è ricaduta qui La sua presenza ha protetto questi laghi dal declino Ma dobbiamo trovarla presto Ori La sua luce non durerà Ok Laghi di luma Sembra che il gioco tica Tipo Ok queste sono le Porca puttana di spavento E queste sono tipo le tre aree Aia Non Aia Però che sorpresa Non sembra esserci in modo per No no Che sicuramente non c'è un modo per farlo Ancora Il gioco dice tipo Ok queste sono le tre aree che devi fare E falle nell'ordine che vuoi Che è una cosa che io adoro Hai visto quolloc Ho sentito che è venuto ai laghi di luma Ma non riesco a trovarlo Non ricordavo che questo posto fosse tanto grande Quolloc è saggio Ho bisogno di un suo consiglio Se lo trovi me lo fai sapere Trova quolloc e torna dai notizie Ok Lo farò Ehm Ma qua c'è Qua si può andare sotto Mmm no No Ma Ho fatto lo scherzo Allora Veloce dai Non ho tempo da perdere In realtà Ne avrei anche però Non ho tempo che voglio perdere Ecco Ehm Io sto improvvisando eh Ok Va bene Qua sopra non sembra esserci Tra l'altro aspetta Aspetta che rimango un attimo in volo Mentre guardo la mappa Ok Ehm Lì come caspita Se arriverà Oh eh Vieni qua te Vieni 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 Stai lì stai lì stai lì Nooo Stai il cazzo Vieni 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 qua Brava brava Vale Ora puoi morire Madonna Quanta vita che hai te Come osi Allora sicuramente Allora sicuramente si può Arrivare qua sopra Ok Qua sopra c'è Qualcosa Oh lì c'è un venditore Ok Mmm Mmm Ehm Ok vediamo che c'è Oh mio dio Che paura A meno che Ehm Aspetta Ho fatto giusto Sì Possibilmente Ah Che inculata Aspetta però Mi servì ancora Puoi uscire Vieni No ho speso il tasto Vabbè Mi ha fatto molto ridere Minchia ho da vita Che mi ha tolto però Lo sai battito Ti hai ponuto Eh lo so Ah Si può usare Sulla Che figata Però prima voglio fare Un'altra cosa Vieni squadra Perché secondo me Puoi rompere qualcosa Lì No Ok Io devo usare battito Quindi Grazie gioco Poi avermi suggerito E quindi Ok Devo fare tipo speedrun Proprio Eh Mi sa Non avevo spinto Abbastanza Bene Oh invece Si Che figata Però Toc I pisci stanno Mordendo E non solo L'esca Ho rischiato La vita E le ali Peccato Danne uno Peccato che Non possiamo essere Come quei fiori acquatici Spariscono Al minimo Tocco Ho morso Se le più Mi dai mia coda Faccio solo stesso Pescare Sarebbe molto Meno doloroso Va bene Oh ma qui sotto C'è il Il santuario Per salvare Allora Vieni qui Anzitutto Voglio vedere Cosa c'è qua a sinistra Perfetto Il minerale Degli sfigati Poi Allora Fermo Ossigeno Ah Did you understand Si però io fisco L'ossigeno Così Uh scende L'acqua Quindi io posso Nuotare Da sopra E salvare Figo Figata Ok perfetto Allora Ne approfitto Salvare E dobbiamo essere Dottorne 20 minuti Quindi termino anche qui La parte numero 9 Let's play di Ori E la volontà Di fuochi fatui Se vi è piaciuto Che ti è piaciuto Salute Vi saluto Ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Grazie 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 Grazie